Un consiglio che posso dare ai ragazzi, se fare o meno il calciatore non mi esprimo perché io sono stato uno dei peggiori calciatori nella storia dell'umanità, infatti ho smesso 14 anni. Sul fare questo mestiere io ho cominciato 40 e più anni fa, sono passati non 40 anni, 40 mila anni per come è cambiato il mestiere, quindi i miei inizi non possono essere, suppongo gli inizi di oggi, però io raccomando tanta passione e tanta umiltà perché a volte si comincia e si pensa di essere già arrivati, di accettare eventuali anche momenti no, un'attesa che può protrarsi anche per tanto tempo, lo studio delle lingue ovviamente, poi i nuovi media, le tecnologie, ci mancherebbe altro, ma ripeto entusiasmo e d'umiltà direi. È stata la partita più difficile da commentare? Beh, insomma non capita tutti i giorni, io poi pensavo mentre parlavo al fatto che tanti milioni di italiani erano davanti al televisore, però se io dovessi dire qual è stata la mia telecronaca più difficile, ne direi un'altra, di una partita dell'Olimpiadi di Rio 2016, Corea del Sud, Isole Figi, non era prevista che la facessimo, io stavo preparandomi un'altra telecronaca, mi sembra Norvegia, Messico, una cosa così, se non che ci fu un misunderstanding sui fusi orari brasiliani, si creò un buco e si dovette coprire il secondo tempo di Corea del Sud, Isole Figi, mi dissero vai nella saletta off tube, la commenti tu e le squadre stavano già entrando in campo per il secondo tempo, quella è stata in assoluto la telecronaca per me più complicata, più difficile, l'avranno vista in pochi, però quei pochi si saranno accorti che mi stavo arrampicando sugli specchi.